Buonasera. Buonasera, con oggi comincio un ciclo di 5 lezioni che ci occuperà nelle prossime settimane. Si tratta di un ciclo promosso da Fondazione Corriere insieme con Galleria Campari. Il tema è uno degli argomenti più spinosi del nostro tempo, ovvero l'arte contemporanea, intorno a cui ci sono grandi diffidenze, grandi pregiudizi. Quindi si tratterà di un ciclo in cui proveremo a incontrare, ad affrontare, a dialogare, a interrogare alcune delle grandi vette dell'arte del nostro tempo. Partiremo con Anselm Kiefer, cui seguirà un incontro dedicato a Marina Abramovic. Poi incontreremo Damien Hirst, Maurizio Cattelan e infine uno degli autori più controversi del nostro tempo, ovvero Banksy. Una piccola premessa. Prima di cominciare questo viaggio, mi piace farla richiamandomi alle pagine di un romanzo che mi è capitato più volte di leggere, di attraversare, che è L'immortalità di Milan Kundera. In questo romanzo Kundera racconta di un ideale museo nel quale a un primo piano si incontravano opere realizzate da artisti dal Rinascimento fino all'Ottocento, artisti che, racconta Kundera, che era come se si passassero il testimone gli uni con gli altri. Arrivati al piano successivo, al piano superiore, Kundera immagina di incontrare, di attraversare una galleria ed è la galleria dell'arte del nostro tempo, all'interno della quale gli artisti sembrano abbandonarsi a una diaspora infinita. Racconta Kundera che gli artisti è come se fuggissero in direzioni diverse l'uno dall'altra. Di fronte a questa fuga, a questa diaspora, è molto difficile capire quali sono gli indirizzi prevalenti, le linee, i gruppi, le tendenze e tutto quello che è stato valido almeno fino agli anni Ottanta, dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri è andato radicalmente in crisi. Nel nostro tempo è molto difficile individuare dei gruppi, delle tendenze prevalenti e ci sono alcuni orientamenti che ritornano in maniera costante, l'attenzione all'arte politica, il recupero della ricerca, dello shock, della provocazione, dello scandalo e tuttavia io credo che la grande sfida, ed è quello che proveremo a fare durante i nostri incontri, è quella di costruire un piccolo canone dell'arte del nostro tempo, un canone nel quale ci sono alcune vette fondamentali senza le quali non è possibile capire l'arte di oggi. Io sono profondamente convinto che l'arte, anche nel nostro tempo, sia caratterizzata da una sequenza di dune e poi ci sono alcune vette. Io proverò a raccontare con voi queste vette. In che modo lo faremo? Beh, lo faremo cercando di raccontare delle storie. La storia dell'arte contemporanea è innanzitutto un racconto. Proverò a raccontarvi una serie di vicende, di personalità, di grandi personalità, di quelle che a parer mio sono destinati a rimanere, di quelle che ci consentono di capire il senso profondo di quello che sta accadendo nell'arte oggi e insieme cercheremo di soffermarci su alcune opere particolarmente rappresentative di questi artisti. Cercherò, cioè, di svelare, mi auguro di riuscirci, i segreti, i misteri, il pensiero che sta dietro le opere d'arte che non dimentichiamo mai. Le opere d'arte sono un po' come dei punti di approdo, dietro i quali si nascondono riferimenti più o meno consapevoli, citazioni, rimandi. Cercheremo insieme di svelare questo, partendo da un punto fondamentale, cioè che l'arte del nostro tempo ha una profonda dignità e esige profonde competenze. Vorrei partire da un'affermazione che lo scorso anno mi ha affidato Anselm Kiefer. È un'affermazione che recita in questo modo. La situazione oggi è caotica solo per gli inesperti. Il commercio e il consumismo sembrano essersi stabilizzati come parassiti sulle cose, ma ci sono ancora tante scintille di luce. Bisogna solo trovarle. Non è facile oggi a causa del frastuono dentro cui tutti siamo immersi, ma una volta affiorate scopriremo che quelle scintille sono in relazione con tante altre scintille. Ecco, io vorrei partire proprio da questa idea di alcune scintille contemporanee e muoverei esattamente dall'autore di questa affermazione che è Anselm Kiefer. Beh, diciamolo subito. Kiefer è probabilmente e forse l'ultimo grande pittore del XX secolo. è profondamente radicato in una lunghissima tradizione che è la tradizione della pittura romantica ed è un autore che ancora continua a lavorare in maniera molto assidua, molto costante. Io in questi incontri spesso partirò anche da alcune esperienze dirette di incontro con opere d'arte e vorrei muovere esattamente dalla mia prima scoperta di Anselm Kiefer. Si tratta di una scoperta che davvero risale a tantissimi, a un bel po' di anni fa, alla fine degli anni Ottanta, la prima grande mostra al MoMA di New York nella quale mi imbatto, ma senza avere nessuno strumento critico, in una serie di opere di Kiefer. Io ve le mostro in sequenza. Questi sono alcuni dei quadri che scopro in quella occasione. È per me davvero una vera e propria rivelazione. Ero studente liceale e mi imbatto in quadri come questi. È chiaro che resto profondamente disorientato di fronte a questi quadri che in realtà rivelano da subito un legame stretto di Kiefer con la tradizione dell'informale. Non è casuale il fatto che qualche anno fa Kiefer abbia realizzato una serie di opere in omaggio ad Alberto Burri, ovvero al grande padre dell'informale italiano. E Kiefer spesso ha rivelato, ha confermato il proprio legame con l'opera di Alberto Burri. Quelle opere, quei quadri, mi colpivano per due aspetti fondamentali. Il primo era la monumentalità. Erano delle opere estremamente ampie, gigantesche, di fronte alle quali un ragazzino si sentiva in qualche modo smarrito, esattamente come di fronte ad alcuni quadri di Friedrich, per citare uno dei grandi padri del romanticismo tedesco. Ed erano opere nelle quali sembrava che Kiefer si ponesse sulla soglia tra figurazione e figurabilità. E cioè, da un lato mostrava degli elementi che erano fortemente ancora riconoscibili, ma sembrava sfidare la riconoscibilità. E le forme sembrava sfaldarsi progressivamente. Era una pittura di tipo molto materico, e in questo era evidente il riferimento a tutta la tradizione dell'informale italiano, ma anche del romanticismo tedesco. L'aspetto interessante è che in molte di queste opere Kiefer lavorava su una sperimentazione polimaterica, cioè convergevano tante materie all'interno di queste opere, e le opere si presentavano come una stratificazione di cenere, di carbone, di paglia. Erano dei veri e propri cretti contemporanei. Erano opere come, per esempio, questo quadro a cui io tengo particolarmente, che sarà molto utile nel percorso che faremo, dove Kiefer riprende una sorta di grande architettura antica, di grande tomba antica, ma quell'opera intanto ha un aspetto che a me ha sempre colpito molto, la sua plasticità. Cioè è un'opera che sembra bucare la superficie, andare verso lo spettatore, ed è un'opera che non è soltanto pittura, ma accoglie nelle sue pieghe anche una serie di elementi oggettuali. Ecco, questa dimensione, questa dimensione plastica della pittura, vi rivela come Kiefer abbia avuto da sempre il bisogno di costruire un'opera d'arte che sia insieme, abbia la matericità della pittura, ma abbia anche la plasticità della scultura. Il passaggio, il mio incontro successivo con Kiefer, risale a qualche anno dopo, quando ho l'incarico di curare una mostra che era l'erede della Biennale di Valencia nel 2009, e chiedo a Kiefer la mostra dedicata al tema del confine, e chiedo a Kiefer di pensare, di donare per questa mostra un ciclo di opere ispirato appunto al tema del confine. Kiefer presenta un ciclo che è potentissimo, anch'esso profondamente ispirato a due grandi temi. Il primo è la pittura romantica, che ritorna. Kiefer è profondamente ancorato, radicato, dentro la tradizione, la cultura, la filosofia del romanticismo, e poi c'è questa visione panica. In quest'opera che vediamo, vedete, c'è un tema Kiefer in fondo è uno degli ultimi grandi umanisti, che pone al centro delle sue opere l'individuo, l'uomo, ma esattamente come nella grande pittura romantica, l'uomo è di fronte all'assoluto. L'uomo è un dettaglio dell'assoluto. Ecco dunque che l'altra opera, che sembra un po' una diretta conseguenza, un pandande, l'opera che vi ho mostrato prima, vi mostra quella costellazione che sovrastava l'uomo disteso. È una costellazione, Kiefer spesso ha lavorato su quest'idea di costruire nella sua pittura delle costellazioni, ed ecco dunque quest'opera, che è insieme esattamente come quella che prima vi ho mostrato, è un'opera di pittura, è un quadro, ma c'è questo elemento gittante che fuoriesce dall'opera, che dona ad essa una sua fortissima, profonda plasticità. Questa era la presentazione, in questo modo il trittico di Kiefer era stato esposto, dove c'era appunto questo dialogo tra l'uomo e l'assoluto, che era un esplicito omaggio, vi ripeto, alla grande tradizione di Gaspar Friedrich. Ma a cosa voglio arrivare? Beh, voglio arrivare a un momento importante, ed è un po' il cuore del discorso, di questo nostro primo incontro su Kiefer e con Kiefer. Beh, per farlo io partirei da un'altra importante rivelazione. In questo caso Napoli, 2003, Teatro San Carlo, grazie al visionario soprintendente dell'epoca, Gioacchino Lanza Tomasi, Kiefer ha l'incarico di realizzare la scenografia dell'Electra di Richard Strauss. È un'opera abbastanza straniante, io ricordo di averla vista nella fase di costruzione e nel backstage. Beh, è un'opera che era assolutamente, che negava ogni tipo di piacevolezza estetica. Era un'opera paradossalmente fredda, una stratificazione di container che evocavano uno scorcio abbandonato, sembrava una sorta di cattedrale di cemento attraversata, percorsa da delle figure femminili, che sono le stesse figure femminili, che incontreremo anche in molte altre opere di Kiefer. L'aspetto interessante è che c'era una visione di insieme, di questa sorta di cittadella semplificata, rigorosa e quasi minimale, man mano che ci si avvicinava, ci si imbatteva in una serie di cunicoli, di percorsi segreti che Kiefer aveva disegnato. Bene, è interessante come quest'opera, ve ne mostro un'altra di immagine, quest'opera sia stata un po' la prima, ma l'origine di quella che a tutti gli effetti possiamo considerare la vetta dell'opera di Hansen Kiefer. Per arrivare alla vetta dell'opera di Kiefer, voglio farvi entrare per un attimo in quello che Kiefer stesso definisce il proprio Cerna. In alcune pagine Kiefer ha raccontato come, Kiefer è un po' un'eccezione nel panorama dell'arte del nostro tempo, in uno scenario nel quale gli artisti tendono spesso a delegare ai propri collaboratori la realizzazione delle proprie opere. Arriveremo al lavoro di Maurizio Cattelan, che è basato, fa proprio di questa idea, del basarsi sul puro concetto, il cardine della sua opera. Bene, Kiefer è l'opposto. Kiefer è un artista che lavora in prima persona a uno staff molto ridotto di collaboratori, è un autore che tende a rifiutare anche una serie di strumenti di comunicazione, è molto difficile da raggiungere e ha un modo di fare in qualche modo ancora antico. Ed è questo che lo fa un autore che ha cavallo tra un secolo e l'altro. È un autore che ama rinchiudersi all'interno del proprio studio che è a Barjac. Barjac è una cittadella a metà strada tra Parigi e Marsiglia, dove periodicamente Kiefer si nasconde. È il suo vero e proprio rifugio. Non si tratta di un semplice atelier, si tratta di un luogo nel quale Kiefer va, si nasconde per realizzare prevalentemente da solo le proprie opere d'arte. Non è soltanto, vi dicevo, un atelier, è anche un museo personale. Kiefer ne parla come una sorta di domus. È anche un luogo nel quale Kiefer raduna tutti i propri progetti. è simile a un altare laico, fatto di cunicoli sotterranei, fatto di percorsi all'aperto, fatto di opere di Kiefer e degli autori che Kiefer ama maggiormente. Vi mostro alcuni di questi spazi dello studio di Barjac. Immaginate un luogo enorme, vastissimo, all'interno del quale Kiefer si diverte, come ama ripetere, a fare, a cambiare, a demolire, a ricostruire i propri lavori. Si tratta di, ci sono dei sotterranei intestini, ci sono questi spazi all'aperto, e qui, in uno di questi spazi, nasce il progetto più importante, il capolavoro di Hansen Kiefer. Guardatelo, questa è la prima versione, una delle primissime versioni dell'opera sulla quale oggi ci soffermeremo in maniera più approfondita. Questa è un'altra prima versione che potete vedere ha dei rapporti molto stretti con l'installazione, con la scenografia dell'Electra di Strauss del 2003 al San Carlo. Questa è una fase leggermente successiva, dove vedete che quella maquette inizia ad acquisire una sua fisicità diversa. Passa il tempo, e 2003, Electra di Strauss, siamo al 2004, esattamente un anno dopo, Kiefer si misura con quest'opera di una straordinaria imponenza. Ve ne mostro alcuni frammenti, questo è un frammento del backstage della realizzazione. Tenete conto che è un'opera che viene installata in maniera permanente a Milano, in Angar Bicocca, è un'opera che avrà due versioni, 2004 e 2015, la versione principale, la versione in qualche modo più autentica e radicale, è la prima versione. Kiefer, questa è la versione del 2015, detto in poche parole, si tratta di un'opera che nella prima versione aveva presentato soltanto le sette torri, nella versione successiva del 2015 le torri vengono avvolte, quasi come se fosse una quinta teatrale, vengono avvolte da una serie di opere concepite da Kiefer proprio per essere in dialogo con i sette palazzi celesti. Si tratta di un'opera debitrice di un viaggio che Kiefer aveva fatto a Gerusalemme, durante il quale aveva scoperto un antico trattato ebraico dove si racconta il cammino di iniziazione spirituale di colui che vuole spingersi fino a toccare Dio. Capite da subito, probabilmente, che si tratta di un... emerge qui uno dei primi tratti fondamentali per capire l'opera di Kiefer. Kiefer è un artista che è profondamente letterario. Questo è uno dei primi tratti importanti. Per capire quest'opera di Kiefer mi piace ritornare a un dialogo che Kiefer stesso ha avuto con Oran Pamuk. Nel 2015 i due si incontrano, pensate, una delle grandi vette della letteratura del nostro tempo, Pamuk, e Kiefer, una delle grandi vette dell'arte del nostro tempo. I due iniziano a dialogare, si scoprono, e l'aspetto interessante è che rivelano a se stessi i propri percorsi incrociati e come se fossero due vite parallele che si specchiano. Da un lato, Pamuk, che da ragazzino aveva l'ambizione di fare l'artista, il pittore, e poi quasi suo malgrado si è trovato a fare lo scrittore con grandi riconoscimenti, ma non ha mai messo da parte la propria passione per l'arte al punto di realizzare un'opera d'arte totale come il Museo dell'Innocenza di Istanbul. Dall'altro lato, Kiefer, che, ed è qui, è un dato che non è molto spesso rivelato, Kiefer, che da ragazzino aveva l'aspirazione di fare lo scrittore o il poeta. Lo scrittore o il poeta che ha poi quasi suo malgrado ha deciso di abbandonare questa sua passione giovanile e ha deciso di concentrarsi prevalentemente sulla pittura. Dico in maniera voluta prevalentemente, perché Kiefer non ha mai abbandonato questa sua passione profondamente letteraria. Le sue opere sono attraversate in maniera costante da riferimenti letterari che vanno dalla letteratura classica fino ad autori del nostro tempo, poi ritorneremo, fino alla Bibbia, ai trattati ebraici. Kiefer continua a dedicare molta parte delle sue giornate alla scrittura letteraria, quotidianamente a un tacquino in cui annota le sue riflessioni. Qualche anno fa è stato invitato dal Collège de France di Parigi, gli è stata assegnata una cattedra d'honorem per un anno di creatività e Kiefer ha tenuto un ciclo di lezioni bellissimo, scritto e pubblicato anche in Italia, il cui titolo è L'arte sopravvivrà alle sue rovine e tutta questa dimensione in qualche modo letteraria è anche questa è un'eccezione nel panorama dell'arte del nostro tempo. Tutti gli autori che incontreremo d'ora in avanti non hanno quel tipo di attenzione profondamente letteraria. Kiefer sì, Kiefer è molto attento alla letteratura e dietro i sette palazzi celesti c'è appunto una specifica fascinazione di tipo letterario. Proviamo ad avvicinarci, poi pian piano scopriremo di che fascinazione si tratta. Avviciniamoci progressivamente alle opere dei sette palazzi celesti e ci sono alcuni dei tratti distintivi di queste opere e che presentano delle ci sono le vedete in primo piano queste cornici vuote di immagini che alludono esattamente a un senso di alla negazione dell'immagine che era all'iconoclastia prevalente durante l'epoca soprattutto del nazismo. Qual è uno degli aspetti che colpisce torniamo indietro? Qual è uno degli aspetti che colpisce immediatamente di queste torri? Sembrano delle torri di Babele colte esattamente un attimo prima del crollo. c'è un trionfo dell'instabilità che caratterizza i sette palazzi celesti. Per leggere queste opere voglio ritornare appunto alla passione più profonda di Kiefer che è la letteratura e in modo particolare uno degli autori cui Kiefer si sente maggiormente legato. Si tratta di un grande poeta tedesco Paul Celan il quale nel 1960 riceve il premio Buchner e nel discorso pronunciato in questa occasione si sofferma sul concetto di meridiano e dice Celan che il meridiano indica una linea reale e terrestre immateriale e trascendente che attraversa territori biografici e concettuali differenti raccordando raccordandoli in una unità possibile. I sette palazzi celesti mi piace leggerli in linea con questa suggestione di Paul Celan si tratta appunto di un'opera che disegna una sorta di meridiano e mette in dialogo alcune antitesi. Partiamo dalla prima antitesi evidente in quest'opera che è l'antitesi tra la politica e il mito. Io spesso mi è capitato di riflettere sul momento in cui Kiefer realizza quest'opera e sull'evento che segna l'inizio del nuovo millennio. Credo che non sia azzardato collegare quest'opera all'evento totale che ha segnato l'apertura del millennio che è il crollo delle Twin Towers. Non è assolutamente una forzatura leggere i sette palazzi celesti come un'implicita forma di riscrittura del crollo delle Twin Towers. Sono delle sette torri che sembrano appunto come dicevamo poc'anzi colte nel momento in cui si stanno per deflagrare. L'arte per Kiefer è attraversata da un'urgenza testimoniale. L'artista ha bisogno di farsi interprete degli eventi del proprio mondo. L'arte è una forma di pratica militante. L'artista ha il dovere di interrogarsi e di dare voce a quello che sta succedendo intorno a lui. Ed è questa la ragione per cui Kiefer che è un artista nato nel 45 l'anno della fine della seconda guerra mondiale e di Hiroshima in tutta la sua vita si è continuamente interrogato su alcuni eventi politici eventi storici. La storia tedesca il nazismo lo sterminio degli ebrei le domande eterne sul tema della colpa del male della morte il tema della distruzione della civiltà dell'apocalisse che incombe sulla nostra civiltà sono tutte domande politiche che attraversano in maniera costante l'opera di Kiefer il quale tuttavia ritiene che l'arte non è cronaca l'arte non può essere una forma di cronaca l'arte non è mai fotografia dell'esistente è la ragione per la quale Kiefer rifiuta tutti quegli artisti che si limitano a registrare l'attualità ed è la ragione per la quale pensa che ogni artista debba concepire la propria opera come un tentativo di innalzare delle alte pareti che lo separino lo isolino dalla vita che è intorno a sé ed è la ragione per la quale Kiefer si affida alla dea mnemosione alla dea memoria la memoria è un po' l'origine il fondamento del pensiero poetico dell'opera di Kiefer quella memoria a proposito della quale un autore molto letto frequentato da Kiefer che Walter Benjamin aveva definito come la facoltà epica per eccellenza che ci fa seguire il corso delle cose e insieme ci riconcilia con il loro dissolversi la memoria è per Kiefer una forma di è un tentativo è uno strumento che gli consente di non aderire al presente ma guardare dietro di sé guardando dietro di sé Kiefer arriva a incrociare miti leggende tradizioni attraversa conosce la Bibbia dietro i sette palazzi celestici sono evidenti riferimenti che vanno a tutta la tradizione dell'apocalisse di Giovanni ma soprattutto decisivo è la scoperta dei trattati ebraici mistici nei quali si parla di qualcosa che ha diretta connessione con l'opera di Kiefer in modo particolare Kiefer resta incantato dalla lettura del grande trattato dei palazzi vedete mi farebbe piacere che arrivasse questo è molto anomalo che un artista del nostro tempo possa scegliere come riferimento un riferimento così erodito sofisticato come il grande trattato dei palazzi uno delle pietre miliari della trattatistica ebraica dove si racconta si narrano le peripezie del mistico che per raggiungere il trono supremo deve affrontare difficili prove e oltrepassare una serie di sette edifici ecco i sette palazzi celesti ma abbiamo parlato del rapporto del meridiano abbiamo parlato del meridiano che è la figura della quale mi piace servirmi per leggere l'opera di Kiefer e in questo caso la voglio riportare l'idea di meridiano a un'altra antitesi che credo a tutti voi possa risultare evidente se noi guardiamo queste opere una delle cose che Kiefer mette immediatamente in mostra in maniera potente è il rapporto tra monumentalità e antimonumentalità attenzione Kiefer ci presenta recupera uno degli archetipi architettonici più importanti della civiltà occidentale ovvero la torre la torre che è un motivo che idealmente da Bruegel a Tatlin fino a Danish Kapoor ha attraversato l'arte gli artisti spesso hanno incluso hanno dedicato le proprie opere alla figura della torre la figura della torre che è un'espressione in qualche modo primordiale originaria a che vedere con la riscrittura di Babele parlando della torre uno dei più grandi poeti del ventesimo secolo Joseph Brodsky aveva detto che nella sua variante per così dire incontaminata ci spinge fisicamente tra le braccia del tempo puro questa era l'immagine di cui si era servito Joseph Brodsky le torri le torri sono un tentativo per non per accarezzare il cielo come la cupola le torri sono un tentativo per attraversare il cielo esprimono una sorta di sono espressioni di un gesto prometeico espressione di una volontà di potenza che porta l'artista verso il cielo e tuttavia le torri di Kiefer rivelano una volontà di potenza fragile debole sono le torri di Kiefer opere fragili e precarie destinate a un crollo che non avverrà mai mostrano imponenza e insieme caducità declino sono tutte costellate come vedete in queste immagini è molto interessante la percezione che si ha di fronte a queste opere sono opere che si prestano a un doppio sguardo c'è un primo sguardo che lo sguardo di insieme chiunque va in hangar bicocca resta stupito incantato di fronte a questa monumentalità ma l'aspetto straordinario che non solo è una monumentalità instabile rievocando le parole di Ezra Pound sembrano quasi un paradiso fragile quello che mette in scena Kiefer ma l'aspetto interessante è che accostandoci ci si imbatte in una serie di frammenti di dettagli di particolari le opere di Kiefer sono una sorta di grande caccia al tesoro se le guardate da vicino ci sono scritte dettagli particolari e a Kiefer interessano moltissimo ci sono delle sono un catalogo di rovine le sette palazzi celesti è come se fossero dei grandi templi che hanno qualcosa di antico e di futuribile costellati appunto da questi frammenti da frammenti e da rovine Kiefer è molto affascinato dalle culture classiche e ama lui potrebbe ripetere con un famoso verso di Baudelaire rovine mia famiglia è quello che Kiefer potrebbe continuamente ripetere tutte le sue opere sono costellate arricchite di questi frammenti le rovine che sono espressione di una bellezza mutilata che si pongono sulla soglia tra il visibile cioè ciò che rimane l'invisibile ciò che non c'è ma che le rovine ci fanno evocare torniamo torniamo indietro e ecco vedete ancora qui alcuni dettagli alcuni particolari dietro quest'opera si nasconde un riferimento che è assolutamente necessario e imprescindibile che è un po' la grande una pagina che Kiefer come tanti artisti contemporanei non ha mai smesso di leggere è una pagina celebre dell'Angelus Novus di Walter Benjamin nella quale Benjamin commenta un celebre quadro di Paul Klee in cui si vede un angelo intento a portarsi lontano da qualcosa verso cui rivolge ancora il suo sguardo ha gli occhi spalancati e la bocca aperta le ali distese dice Benjamin accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi questa idea beniaminiana riferita appunto all'Angelus Novus di di Paul Klee ritorna in maniera costante all'interno dell'opera di Kiefer però molto spesso almeno nel passato nella contemporaneità meno gli artisti ci possono offrire con la loro riflessione delle chiavi importanti per capire la propria opera è il caso appunto di Kiefer è impossibile capire i sette palazzi celesti se non si ritorna a quello che Kiefer stesso ha affermato nelle lecture tenute tra il 1910 e il 1910 e scusate tra il 2010 e il 2011 al Collège de France di Parigi in queste lezioni Kiefer parla di se stesso ma parla soprattutto della propria idea di arte chi è l'artista si chiede Kiefer l'artista è una figura che vive tra chiusura e apertura ancora una volta ricordate il meridiano che mette insieme differenze anche nelle lezioni del Collège de France Kiefer insiste su questo dice che l'artista da un lato è colui che deve costruire le proprie opere i propri ordigni visivi e materici all'interno del proprio atelier dall'altra parte deve guardarsi intorno deve guardare a discipline a saperi lontani la letteratura ma anche l'astrofisica la fisica la filosofia la mistica la scienza la biologia l'alchimia l'artista deve essere un cacciatore dice Kiefer che deve andare in giro a cacciare le proprie prede e poi riportarle all'interno dello studio ma in che modo l'artista si chiede è del tutto consapevole di ciò che realizza o no Kiefer dice di no Kiefer dice guardate che io quando lavoro sono attento a predisporre tutto a calcolare se è possibile ogni elemento della mia opera ma poi subentra il caso poi subentra l'incertezza dei materiali e l'inconsapevolezza l'opera d'arte ci dice ha qualcosa dentro di sé di inconsapevole e io come artista non posso del tutto calcolarla ecco dunque che Kiefer racconta il modo in cui realizza i propri quadri da prima dice instauro un corpo a corpo con i quadri pensate ricordate le opere che abbiamo visto all'inizio di questa nostra conversazione opere imponenti solenni per realizzarle Kiefer spesso è dentro la materia è parte un po' la Pollock è parte di quell'opera ma poi non è del tutto consapevole di ciò che sta realizzando ha bisogno di allontanarsene ha bisogno di capire che cosa ha fatto quasi appropria senza esserne fino in fondo consapevole ecco dunque che l'altro aspetto su cui Kiefer insiste nelle lecture di Parigi è quello tra il bisogno di tra l'iconofilia e l'iconoclastia cioè dice Kiefer l'artista deve da un lato costruire i propri edifici dall'altro lato distruggerli fare arte dice Kiefer è un modo per volersi male è un modo per aggredire l'opera d'arte la ragione per la quale per esempio Kiefer molto spesso realizza i suoi quadri anche di grandi dimensioni e nel momento si affida dei processi di elettrolisi che gli consentono di bruciare senza il suo controllo alcune parti oppure decide per esempio di inumare di mettere sotto terra i suoi quadri e di innaffiarli con acqua sporca in attesa che quegli effetti dell'acqua sporca possano trasformare deteriorare le immagini senza il calcolo di Kiefer stesso la frase che Kiefer ama citare che è un passaggio della filosofia di Nietzsche recita bisogna mandare tutto in frantumi chiudo chiudo con quello che Kiefer ha raccontato il giorno della presentazione dei sette palazzi celesti quando gli chiesero ma in fondo qual è il senso di quest'opera intanto è un'opera intrasportabile è un'opera che può essere vissuta e ammirata soltanto da chi entra in hangar Bicocca e a Kiefer chiesero se un'ipotesi di trasferimento di riallestimento potesse essere presa in considerazione Kiefer rispose in maniera molto secca no per me il vero destino di quest'opera è e li raccontò qualcosa di inatteso per capirlo vi mostro questa scultura del 2012 è una scultura presentata presso la galleria milanese di Liarumma storicamente la gallerista di Kiefer nella quale si vede questa sorta di questa grande sembra una macchina quasi da scrivere dalla quale fuoriescono queste pellicole cinematografiche è un indizio importante che potremmo collegare a quello che Kiefer dice il giorno della presentazione dei sette palazzi celesti quando afferma deliberatamente che il suo sogno sarebbe quello di filmare la distruzione dei sette palazzi celesti il vero compimento di quest'opera dice Kiefer è l'autodistruzione e se ci riflettiamo bene e con questo davvero chiudiamo proviamo a riguardare a questo punto nell'insieme i sette palazzi celesti in questo gioco tra politica e mito tra monumentalità e antimonumentalità e fragilità e rovine tra letteratura e trasfigurazione che cosa proviamo a guardarle con un occhio diverso in fondo Kiefer con quell'opera che vi ho mostrato del 2012 e con l'affermazione rilasciata il giorno dell'inaugurazione ci dice una cosa specifica in fondo quest'opera è una forma di quasi cinema è un'opera che guarda in maniera esplicita ad alcuni riferimenti cinematografici guarda alla science fiction guarda quella grande tradizione che da metropolis di Fritz Lang è stata ampiamente frequentata dagli artisti e diventa in fondo se ci pensiamo a guardarla con un occhio diverso sembra davvero il set di un film apocalittico che racconta una sorta di apocalisse non trascendente ma immanente e insediatasi nel nostro presente è un'opera dunque che diventa una sorta di grande crinale che ci conduce dalla trattatistica dalla mitologia dal mondo della mistica ebraica e ci riporta ci prefigura appunto scenari da apocalisse cinematografica con questo chiuderei il nostro primo incontro e l'appuntamento a settimana prossima per incontrare un artista molto lontana da Kiefer espressione di una sensibilità completamente diversa che è Marina Abramovic grazie e buona serata grazie